tutto bloccato dalla tela del ragno berlusconi che si è messo al centro della scena e la governa venerdì il vertice del centro-destra sabato quello del pd che ipotizza la ventino dalla quarta votazione stasera conte e i 5 stelle il puzzle si riempie se la soluzione o parte di essa dovesse essere un governo dei leader matteo renzi ne starà fuori ottima idea ma io ho già dato ha detto ieri sera il leader d'italia viva ospite di non è l'arena dove ha sfoggiato per la prima volta un paio di occhiali imposti dall'età il governo dei leader è l'idea lanciata da matteo salvini e di cui ragiona e non certo da oggi nei suoi quotidiani contatti senatore di firenze sia che draghi salga al colle sia che resti a palazzo chigi una cosa è certa la legislatura deve andare avanti non ci possono essere interruzioni nell'azione dell'esecutivo il governo deve però essere rafforzato specie se l'attuale premier dovesse traslocare per tutelarsi dai suoi stessi azionisti in un anno il 2022 i campagna elettorale permanente se poi l'attuale premier dovesse traslocare nel palazzo dei papi dalla tela di renzi sembrano assumere forma due possibili premier dario franceschini e lorenzo guerini il secondo certamente più ecumenico del primo accanto un ticket o addirittura un tris di vice premier in grado di dare la necessaria assicurazione alla vasta maggioranza il rimpasto ne rafforzato di governo con dentro i segretari dei vari partiti di maggioranza e anche i leader delle varie correnti e la cosa che assume maggiore consistenza quando la cressidra segna meno 11 all'inizio delle chiame presidenziali 24 gennaio ore 15 ma ieri salvini che si sta muovendo come il federatore del centro destra ha fornito anche un altro indizio il nome verrà fuori tra 15 giorni che per l'appunto coincidono con il 27 gennaio il giorno della quarta votazione quella in cui per eleggere il tredicesimo capo dello stato serviranno 505 voti fino a quel giorno il sogno desiderio di silvio berlusconi di diventare presidente della repubblica resterà in piedi e sarà alimentato perché nel romanzo quirinale di cui scriviamo puntate ogni giorno è spesso colorate di un che di surreale non va dimenticato che in realtà nessuno è realmente candidato al colle Grazie a tutti Grazie a tutti.